L'idea è positiva, ho avuto una percezione di una città al di là che bella, piena di storia, di una città accogliente, così come ho trovato accoglienza qui al comando. Devo dire che i colleghi che erano qui già ben organizzati, una grande professionalità e uno spirito di collaborazione importante, che è quello che è necessario per poter svolgere al meglio il nostro lavoro. È arrivato in città da poche settimane, ma già alle idee ben chiare. L'architetto Fabrizio Baglioni, infatti, è il nuovo comandante dei Vigili del Fuoco di Arezzo. Con una lunga carriera alle spalle, ha ricoperto ruoli di rilievo presso il comando di Perugia, la direzione regionale dell'Umbria e la direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica. Prima di arrivare ad Arezzo è stato vicario presso il comando di Massacarrara. Dallo scorso 30 settembre, infine, ha assunto il comando ad Arezzo, succedendo all'ingegner Roberto Bonfiglio. Il territorio effettivamente è vasto. La provincia di Arezzo è una fra le più vaste e le più grandi d'Italia. Il territorio è vario, va da zone pianeggianti, collinare e montuose. Soffriamo un po' quello che però non è soltanto tipico del comando di Arezzo, che è quello delle carenze del personale. L'amministrazione sta provvedendo con assunzioni importanti, ma prima di poter compensare il turnover, un po' di tempo ci vorrà. Però faremo del nostro meglio e con le risorse che abbiamo a disposizione siamo sicuri di garantire comunque il soccorso tecnico urgente su tutto il territorio. Il contributo che vuol portare ad Arezzo? Il contributo è quello di poter continuare nell'attività finora svolta, eventualmente di migliorare ciò che è migliorabile e soprattutto di mettere il personale nelle condizioni di poter operare con entusiasmo e professionalità. E' già operativo nell'organizzazione di due importanti eventi per celebrare il coro? Sì, sono due date importanti, 29 e 30 ottobre, che celebreremo i 150 anni del Corpo dei Civici Pompieri di Arezzo e 70 anni del reparto volo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Due eventi importanti che vedranno coinvolto gran parte, quasi tutto il personale del comando di Arezzo, si svolgeranno in città, presso il Prato e presso Piazza della Libertà. A partire, fatemelo dire, insomma il programma è articolato, però mi sento di segnalare la scala romana che faremo al Prato, che consiste in una scala controventata, quindi non appoggiata, alta 30 metri, quindi devo dire che è una manovra abbastanza spettacolare.